Ciao, ciao a tutti, buona domenica, buona festa della mamma a tutte, tutte, tutte le mamme del mondo, a chi ha generato dei figli, a chi li ha adottati, a chi li ha in affido, a chi è mamma di figli non suoi, a chi si sente mamma nel cuore, quindi davvero auguri a tutti, anche se io il giorno della festa della mamma penso sia l'8 maggio, come mi è stato insegnato dalle suore quando andavo all'asilo che si preparavano i lavoretti con il punteruolo ed è sempre stato l'8 maggio, quindi io ho già ricevuto un regalo per l'8 maggio dalla mia Lucy che è l'unica che si ricorda di questa cosa, gli altri sono due figli maschi, chissà, chissà se oggi arriverà qualcosa, comunque io mi sono attrezzata, mi sono fatta degli autoregali. Un primo autoregalo sono questi profumini, questi profumi, io li ho presi comunque in formato mini per provarli, per testarli, di l'erbolario, l'erbolario ha fatto uscire, ha fatto riuscire, ha rimesso in produzione per un tempo limitato questi profumi che erano già usciti anni fa e che tutti ne decantavano le meraviglie, io non li ho mai provati, mi sono avvicinata all'erbolario come profumeria soltanto in questo anno e mezzo, è comunque un brand che mi piace tantissimo, quindi voglio essere una voce fuori dal coro ma non in maniera negativa, quindi non vorrei che tutti si accanissero su questa cosa, però vi racconterò le mie impressioni e vi dirò che ho creato un podio che parte dal quinto posto e arriverà al primo posto. Gli ho trovati comunque tutti gradevoli, ce n'è forse solo uno che sulla mia pelle mi lascia un po' perplessa, ma li ho trovati tutti gradevoli, tutti buoni, ho preso le taglie da 15 ml non avendoli mai provati ma sinceramente non so se acquisterò la taglia da 125 ml perché effettivamente è proprio tanto e al momento non ne ho comunque nessuno così di preferito. Ma partiamo dal quinto posto, siccome ci sono già in giro tantissimi video che ve li descrivono, che ve li raccontano con tutte le note, io farò proprio un breve pensiero su ogni profumo e quello che ne penso. Allora, quinto posto per me, e qui si scatenerà l'inferno, no scherzo. Allora, mandorla, il profumo mandorla, l'ho messo al quinto posto perché? Perché sulla mia pelle, alla fine, nel dry down, rilascia proprio un sentore medicinale, come di quelle pomate che si utilizzano per massaggiare i crampi, non lo so, probabilmente è il pH della mia pelle, sicuramente sarà il pH della mia pelle, ma se all'inizio comunque mi regala una fragranza buona, alla fine mi dà appunto quel sentore lì. Allora, ve lo spruzzo con voi. Io ci sento sì il profumo della mandorla, ma quel profumo mandorlato che non so se anche voi quando eravate piccolini, io mi ricordo che in Cologna quando mangiavo le albicocche, tenevamo il nocciolo e poi lo grattavamo o sui pilastri della Cologna, o per terra e facevamo uscire appunto il ripieno del nocciolo che mi pare che sia anche velenoso. E però noi lo provavamo, cioè velenoso se mangiato in quantità, lo assaggiavamo, lo provavamo e aveva quel sentore mandorlato molto molto amarognolo. Mi ricorda questa cosa qui, quindi non mi piace al momento, sento questo profumo di mandorla, ma ha una mandorla molto 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 saponosa e mi ricorda appunto questo nocciolo dell'albicocca che mi rilascia un sentore che a me comunque non fa impazzire, ecco, quindi l'ho messo al quinto posto per questo. So che da tanti è amato, perché comunque è un profumo amato da tantissimi, penso anche che chi ha amato in precedenza questi profumi che sembrano stati forse riformulati da quello che ho sentito nei vari video, probabilmente è legato a questi profumi proprio per un ricordo e quindi come io sono legata ad Anais Anais per un ricordo della mia adolescenza, della mia gioventù, probabilmente chi è legato a questo profumo da un ricordo lo ama anche per quello. E quindi io non avendo nessun ricordo legato a questi profumi, dico proprio così la mia opinione spudorata, sperando appunto di non offendere nessuno, ma non vuole essere veramente un'offesa, è proprio una piccola classifica giocosa che io ho fatto su questi profumi che non avevo mai provato. Quindi al quinto posto troviamo per me il profumo mandorla. Le note di questo profumo sono bergamotto, biancospino, fior di mandorlo, fiore di eliotropio e vaniglia. Ecco, quello che io sento tanto è questa mandorla che poi quando si assesta sulla mia pelle rilascia quel profumo quasi medicinale di crema da massaggio che a me proprio non fa impazzire. Arriviamo ora al profumo petali e fiori. Le note sono bergamotto, fior d'arancio, rosa, foglie di violetta, vaniglia e muschio. È un fiorito muschiato talcato fresco. Proviamolo di qua. Molto piacevole. Un profumo per me primaverile. Sento abbastanza la violetta, il fiore d'arancio, il bergamotto, quindi questo mix floreale agrumato. E alla fine, quando poi rimane sulla pelle per qualche ora, ci sento il profumo del borotalco. Cioè proprio il borotalco marca Borotalco. Mi piace tanto. Ha proprio quel profumo così molto coccoloso, molto borotalcato, muschiato, che me lo ha fatto apprezzare. Questo per me è proprio un profumo perfetto per la primavera, perché la nota talcata, quando c'è proprio tanto caldo, a me dà un po' fastidio. Molto molto piacevole. Lo ritengo adatto per la primavera e quindi questo va al quarto posto. Mi sono dimenticata di dirvi che questo, secondo me, è un profumo che io metterei principalmente in autunno, autunno-inverno, non in una stagione calda. Poi abbiamo al terzo posto, ma solo perché ne ho molti di questi profumi al neroli e mi piacciono tutti, alcuni li trovo anche un po' più intensi di questo, il profumo neroli. Questo è il tipico profumo al neroli. Molto buono. Molto fresco. Ecco, dicevo al terzo posto proprio perché ho tanti profumi al neroli. Il neroli è una fragranza che mi piace molto nei profumi, soprattutto estivi e primaverili. Lo ritengo molto simile a tanti che ho già in collezione e quindi lo metto al terzo posto. Piacevole anche qui sulla pelle rilascia proprio quel profumo di primavera, di fiore d'arancio. Le note di questo profumo sono mandarino, petit grain, bergamotto, neroli, gelsomino e muschiato. Ecco, secondo me tutti questi profumi alla fine hanno un sentore sulla pelle, sulla mia pelle. Dopo tre o quattro ore che li ho sulla pelle, un sentore muschiato quasi tutti. Profumo piacevole ma simile a molti altri che ho in collezione e quindi al terzo posto. Dolce Elisir al secondo posto, un profumo aspettato e atteso da tanti. Presumo che tante persone siano legate ad un ricordo per questo profumo, un momento particolare della loro vita che gli ha regalato delle forti emozioni o comunque delle cose belle da ricordare. Un profumo leggermente gourmand, anche se le note appunto che ci sono al suo interno sono molto gourmand. Caramello, assoluta di rum, fiore di sambuco, polvere di cacao, assoluta di benzolino del Siam, assoluta di vaniglia. Quindi potrebbe essere un'esplosione tanto gourmand, tanto dolciosa, ma secondo me è molto ben bilanciata. L'assoluta di rum e comunque il polvere di cacao che è generalmente un profumo amaro. Anche in cucina il cacao non regala dolcezza, regala proprio quel sapore amaro, misterioso, profondo. E io lo vedo un po' così questo profumo, l'ho trovato davvero molto molto buono. Un profumo secondo me perfetto per l'autunno, per l'inverno, non da mettere nelle stagioni calde perché lo sento troppo presente. Sento molto molto bene questa nota licorosa e sento proprio questa nota amarognola del cacao. Mi piace molto, penso tra tutti e cinque sia insieme ad Orangerie, che ormai avrete capito che è sul podio, quello che sulla pelle rimane un po' di più. Un profumo molto piacevole, mi è piaciuto, posso capire effettivamente perché tante persone siano legate a questo profumo. Al secondo posto, quindi Dolce Elisir, pensavo fosse più intenso e invece l'ho trovato di un'intensità discreta, non sfacciata, molto piacevole. Un profumo che proprio per il suo tono licoroso mi piace molto. Secondo posto, quindi è suo. Invetta, Orangerie per me. Orangerie perché? Penso perché ci stiamo avvicinando comunque a una stagione calda e i profumi ovviamente freschi, agrumati, leggeri, frizzanti, sono quelli che io in questo momento apprezzo di più, ma proprio perché è la stagione dei profumi più briosi, più allegri, più birichini, più frizzanti. Ed è proprio così che ho trovato questo profumo. Un profumo tra tutti e cinque, che è quello che mi è durato quasi tutta la giornata. Le note di questo profumo di Orangerie sono Bergamotto, Limone, Cassis, Accordo Acquatico, Mate e Muschi. Un profumo molto piacevole, vediamo cosa mi sono scritta, eccolo qua, molto fresco, un'esplosione proprio di agrumi, un'esplosione di estate. Mamma mia, è veramente buonissimo, buono buono buono, intenso, agrumato, ha anche un sentore quasi acquatico, sa di pulito, sa di fresco, anche lui ha questo tono muschiato, ma veramente che è carezzevole, regala quella freschezza che abbiamo bisogno nelle giornate calde, nelle giornate affose. Ecco, sul podio ci metto lui, perché è il profumo che tra tutti e cinque mi è piaciuto di più, mi ha colpito, probabilmente come vi dicevo, perché ci stiamo avvicinando alla stagione in cui secondo me questo profumo è perfetto. Non penso però di acquistare al momento nessuno di questi profumi in taglia grande, perché effettivamente mi sembra, mi sembra tanto. Se ci fosse stato il 50 ml l'avrei preso molto molto volentieri e avrei preso anche molto volentieri il dolce Elisir. Chissà mai che l'erbolario li faccia poi ritornare in gamma permanente, in modo così da poterli riutilizzare, secondo me, al meglio. Ecco, questa è proprio un po' la mia opinione. Ripeto, non vuole essere assolutamente un video dispregiativo, assolutamente no, sono tutti profumi molto belli, molto piacevoli, molto buoni. Diciamo che i due che mi hanno colpito di più sono Dolce Elisir e Orangerie, ma se dovessi proprio fare una scelta al momento tra questi due, sceglierei sicuramente Orangerie. Ebbene, dopo questa piccola carrellata e aver messo sul podio le cinque fragranze uscite dall'erbolario per festeggiare il 45esimo anniversario di questo marchio che trovo davvero ottimo, buonissimo e che mi piace molto, io vi saluto, vi rinnovo ancora gli auguri per una buona e bella e serena festa della mamma, per tutte le mamme del mondo, nessuno ci insegna ad essere mamme, abbiamo imparato da sole, abbiamo imparato sull'esempio delle nostre mamme, pensiamo di non fare gli stessi errori, ma facciamo gli stessi errori e soprattutto ne compiamo altri e penso che i nostri figli ci possano perdonare per tutti gli errori che facciamo. Io mi sono ritrovata molte volte, soprattutto adesso che sono grandi, a chiedere scusa per alcuni miei atteggiamenti, per alcuni miei comportamenti, però appunto l'amore della mamma è l'amore della mamma e quindi tutto perdona e tutto accoglie, ecco questo è una cosa bella, come noi siamo sicuri che le nostre mamme ci amano per quello che siamo, anche i nostri figli penso e spero con il nostro amore e con il nostro atteggiamento, con il nostro volere, il loro bene sappiano che li amiamo per quelli che sono, non devono essere perfetti, non devono essere i migliori del mondo, ecco io spero che i miei figli si sentano sempre liberi di potermi dire e raccontare ogni cosa, che non si vergognino mai di come sono e di quello che fanno e penso che il mio amore appunto possa scavalcare le montagne, ecco questo è quello che mi auguro e spero che loro sappiano questa cosa. Scusatemi sono un attimo emozionata e quindi basta, bando alle ciance, io vi saluto, vi rinnovo appunto ancora gli auguri per questa giornata, vi do appuntamento ad un prossimo video e grazie per essere stati in mia compagnia, ciao, buona giornata!